Nella tarda serata di sabato 16 settembre a Cusago, Milano, una coppia è stata denunciata per abbandono di minori. I genitori hanno lasciato la loro figlia di otto mesi da sola all'interno della loro auto per partecipare a un matrimonio. I carabinieri della stazione di Cornaredo sono intervenuti presso il parcheggio di un ristorante in via Fratelli Cervi a Cusago dove hanno trovato la bambina abbandonata. La coppia, composta da un uomo di 41 anni e una donna di 31 anni, è stata identificata dai militari. I genitori hanno affermato di aver tenuto sotto controllo la figlia tramite una videochiamata dal loro cellulare mentre erano ai festeggiamenti del matrimonio di un amico. Grazie a tutti.